allora c'è vediamo un attimo il banner di questo perchè potrebbe essere interessante ecco tipo di un blue volentieri me ne servono assai e anche di escanor rosso me ne servono gli altri proverei volentieri tutte di un blue devo portarla 6-6 se riesco però facciamo prima la daily e c'è ancora questo banner qua ah tra l'altro c'è ancora questo banner qua che non è malaccissimo più o meno in realtà fa schifo in realtà fa schifo allora facciamo questa spero che la mettano in fretta sul global quella gratis sul parte 3 il boss nuovo è figo ma sembra un incubo boh lo farò anche quello sul global quando arriverà non ho voglia di farlo adesso non ho proprio voglia ho dei ticket anche margaret la metteranno no non la metteranno da nessuna parte però tipo allora kusak probabilmente lo metteranno qua insieme a chandler quindi vuol dire che magari sarà un altro personaggio secondario quindi non sarà festival kusak magari lo metteranno con qualcun altro chi lo sa chi lo sa chi lo sa scaldiamoci un po' scaldiamoci un po' con le pull sì non avevo dubbi che non trovavo un cazzo in questi ticket non avevo proprio dubbi eh jesus vabbè piano piano dai poi qui potrei trovare effettivamente ah ma c'è anche mail blue qui e chi cazzo lo sapeva sì ma c'è tanti di quei pg che chi cazzo lo sapeva che c'era mail blue a 420 margaret io non ci credo troppo però può essere c'è un porco c'è un porco li pulliamo tutti no aspettiamo quando non abbiamo 5 allora li pulliamo fanculo non ne ho proprio voglia di fare le singolette con i ticket rametto a posto non avevo dubbi dai andiamo a pullare su margaret questo va parte 2 hanno aggiunto qualcuno no no quindi coin parte 1 figurati ne ho 22 ok qui hanno aggiunto qualcuno no non ancora potrei pensare di pullare qua dopo se mi avanzano robe siamo sicuri 420 margaret io non sono molto come dire fiducioso ultimamente ho shaftato troppo sul 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 global ho shaftato veramente troppo quindi non so 180 mi portate sfiga non la trovo in nessuno dei due banuer ah ah già che questo è quel banner che nelle multi di merda trovavi il il pg è vero c'è l'animazione speciale mi pare 600 zitti tutti no ma facciamo 900 dai tanto voglio dire eh dog facciamo 900 quindi questa è una pull buona no 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 ok sì e invece sì ma dove è uscito ah ma era quello garantito ho detto dove cazzo era uscito ciao dog le mani milano beh il banner non è così orribile più o meno ti tocco si può tanto è un maschio in realtà e niente prima multi andata 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 doggo help help taratata taratata taratara insomma tu 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 come mai non partono gli e ci ho già fatto caso prima strano lo risetterò dopo taratata taratata tu 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 tutti r quindi abbiamo deciso così tutti r va bene basta che me lo dite cane botte merda e invece c'è ph parte hai visto ciao roscon vabbè questa era era nada adesso funzionano a posto però devo toccare di nuovo un po margaret perché qui non ci siamo non ci siamo tocca le gambe i piedini ma gli tocca il cuoricino guarda che bel cuore guarda come gli piace dai con Evangelion sotto dai dai no è finita no too late il coricino se se il coricino palesemente schifo andata come dorme il dog mi dai un ssr uno che vuoi tu no niente la metto dai su niente c'è il maiale di merda maiale dovrebbero mettere un'animazione nuova cioè è da inizio gioco che abbiamo ste animazioni abbiamo avuto la Escanor Animation un anno fa tipo che cazzo datemene una nuova una con che ne so mail che si trasforma in Assault piuttosto qualcosa di nuovo se proprio non volete togliere Meliodas e dog niente fake out non vogliono no c'è dongo dai su zeldres nelle animazioni ci starebbe molto bene io non lo so non lo so con tutti quelli che c'erano Bellion veramente veramente che tristezza di personaggio Bellion mamma mia forse ho sbagliato anime allora allora una cosa figa tipo che mi ricordo di Blazing era l'animazione effettivamente delle pool quella era figa anche lì ce n'erano due praticamente le animazioni due o tre però era carina SSR ma siete un po' stronzi che banner del cazzo è oh dov'è il mio culo dov'è il mio culo oh che il porco doggo non mi guardare così che non so cosa vuoi no 4 e 20 4 e 20 4 e 20 è un po' tantino niente ciccio se l'è giocata e ha sbagliato mi spiace 300 garantito schifo a meno mano al cuore no dobbiamo soffrire le mie gemme devono soffrire per quello che mi hanno fatto guarda ma 2 SR che cazzo è allora mica puoi prenderli tutti a 30 ok ma in 180 gemme un bellion anche no ci può essere un mix delle cose eh un mix delle cose no ciccio la tua te la sei giocata hai detto 180 margaret hai sbagliato sei fuori dal gioco basta guarda ma che schifo che 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 merda e poi il banner non è brutto eh però porto il cazzo dammi qualche SSR quella è bruciata non si trova ormai quella me l'ha rubata per sempre grazie una su dieci grazie tutti SR sono sbilanciate le multi sono sbilanciate palesemente beh non sia mai un fake out da qualche parte perché voglio dire che siamo ricchi qua oh doggo ho trovato ban rosso ma è quello fortissimo pure il cretino di merda che schifo che schifo che schifo eh che schifo si visto la merda ma che schifo ditene almeno di buoni non tiratemi gli schifi addosso eh vaffanculo te al maiale guarda ma mi sta andando di un male di solito Rodrin ma che personaggi mi sta dando ma cosa mi sta dando ma è mai possibile ciao doggo mi dai una margaret io quello voglio voglio una margaret e basta seicento ma seicento è troppo facile devi azzeccare un numero prima sin giura tuturuturu tuturuturu tanto sarà una merda sicuramente sicuramente oh già che vado per la monocopia dammi una monocopia eh sì sì dai ma ne avanti ok quante bestemmie doppio belli ormai sono sfibrato sono sfibrato quindi non bestemmio più not bad sei safe fai buchi allora voglio le ali ma di una ragazza c'è una ragazza con le ali porco dio non quella non quella Gesù ho chiesto ho chiesto Gesù va bene dai quante possibilità c'erano ci sto credendo non ci sto credendo non mi ricordavo nemmeno ci fosse il latte in sto cazzo di banner dai cazzo vaffanculo 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 1 1 1 grazie del follo è latte buona bre 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 Grazie a tutti.